Inaugurato il nuovo spazio esterno della scuola primaria San Biagio di Figline Valdarno, un'area dedicata ai giochi dei bambini nell'ora di ricreazione o alle tante attività che si svolgono in ambienti esterni inerenti alla scuola. Il materiale utilizzato per la copertura è una speciale gomma che consente di ridurre i pericoli e di aumentare la piacevolezza di usufruire la scuola. Fondamentalmente l'importanza è proprio il segnale, il segnale di una valorizzazione della scuola, quello senza altro. Il secondo aspetto importante è la messa in sicurezza di un'area dove i bambini ovviamente passano gran parte del tempo, del tempo libero diciamo e il terzo aspetto importante è l'organizzazione in maniera come dire sensibile e sensata di questa zona. Per tanti anni abbiamo provato a far crescere un prato, non ci è mai riuscito, questa copertura con questi giochi rendono possibile la fruizione da parte dei bambini in maniera adeguata. Quanti bambini vertono nel plesso? Sì circa 200, siamo 10 classi e siamo circa 200 bambini. Il commissario prefettizio del comune di Figline Incisa Valdarno sottolinea l'importanza dell'intervento. Quando si fanno interventi, piccoli o grandi che siano, l'amministrazione pubblica è sempre contenta e parlo per tutte le amministrazioni pubbliche e c'è un doppio orgoglio quando si fanno per i ragazzi, per il nostro futuro in fin dei conti. Questo è un bellissimo spazio, mi dicono che è stato recuperato da condizioni un po' precarie e vedo che è stato inneggiato anche alla bandiera italiana perché ci sono i tre colori fondamentali. Insomma è proprio un bel momento soprattutto per i ragazzi che sono la nostra speranza e il nostro orgoglio. Le caratteristiche di questo intervento? Beh dunque questo è un tipo di materiale antisdrucciolo e antiscivolo piuttosto soffice, studiato apposta per eventuali piccole cadute e questo terreno è in grado di assorbire piccole cadute quindi senza alcun danno per i bambini. Quindi studiato proprio per garantire la massima sicurezza.